buongiorno fratelli nero azzurri e nonna bentornati sul canale del bauscia nero blu sergio saruggeri ciao a tutti ragazzi ciao a tutti iniziamo il video buon lunedì a tutti buon lunedì pomeriggio a tutti iniziamo il video con con questo sfondo qua perché perché questo sfondo qua è quello che già voi trovate per quanto riguarda la live di questa sera perché perché è già pubblicata non so se è corretto chiamarla così ma potete già comunque mettere il promo emoria perché perché stasera inizia la battaglia battaglia simpatica e sportiva soprattutto tra la compagine di noi dell'inter e la compagine di quelli la dei nostri amici del milan come vedete e questa è la locandina che trovate già bella lì pronta sul canale di nhc non ho cugini stasera si parte ore 21 e 45 quindi mi raccomando ragazzi tutti sintonizzati questa sera e andate anche a vedere instagram e seguiteci su instagram in maniera tale che per le prossime volte avrete comunque il dettaglio di tutto quello che riguarda il programma le curiosità e potete interagire con noi quindi appuntamento a questa sera raccomando raccomando a tutti comunque la la massima educazione per il semplice fatto che lo sfondo è il sale è della del calcio perché come si avrebbe senza sfottò però comunque deve essere uno sfottò chiamiamolo educato ok quindi appuntamento a questa sera li vedete i protagonisti è la compagine dell'inter diego ligori guardate che bello con la sciarpa di un mio cugino fabio bergomi manuel bonaduce l'amico mario inter ci sono anch'io lì con questa cozza pelata il rasta il tringa poi aspettate chi è che c'è qua lo zio peter guardate lo zio peter c'è ale guardate ale ecco e poi c'è un un altro amico un altro amico dei cuginastri che avrò il piacere di conoscere anch'io questa sera allora parliamo un po di news parliamo un po di news perché di news e celebriamo i nostri campioni chiaro oggi ci soffermiamo su su un campione un campione barra un altro campione allora l'altro campione è quello che siede in panchina perché il nostro mister il nostro mister era un protagonista assoluto e sta dietro al successo di quello che io chiamo flash e quindi sto parlando di akimi anche perché akimi e madre natura gli ha dato i superpoteri ma antonio conte è stato veramente uno stratega esemplare nel fare in modo che questi superpoteri si possano esprimere nel miglior modo possibile e così è nato il triangolo delle bermuda ragazzi sì perché noi risucchiamo come nel triangolo delle bermuda i nostri avversari in che zona del campo nella zona di destra perché si è formato grazie comunque al nostro stratega mister punto conti appunto il triangolo composto da barellino da lukaku e dal nostro flash akimi e in questo triangolo gli avversari veramente vengono risucchiati letteralmente questo triangolo perché parliamo di questo triangolo perché con questo triangolo il mister sfrutta appieno le caratteristiche del nostro flash le sfrutta appieno per il semplice fatto che comunque i meccanismi tra loro tre soprattutto sono sincronizzati in modello orologio svizzero molto ma molto preciso e fanno in modo di fare risaltare il nostro chiamarlo pendolino è reduttivo è un vero e proprio supereroe flash ragazzi che niente fa è flash e anche i numeri parlano di quanto bene stia facendo il nostro flash perché perché pensate che nei cinque campionati più importanti d'europa è il difessore che i numeri migliori ricordiamoli questi numeri celebriamo di questi numeri sono sei gol e quattro assist che per un difessore lui non è proprio un difessore però rientra nella categoria dei difessori sono numeri veramente pazzeschi e dietro questo c'è proprio antonio conte c'è proprio antonio conte che ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche del nostro flash appunto creando questo triangolo delle bermute a destra è tutto quello che vi sto dicendo l'ho un po ripreso da un articolo molto bello che è apparso stamattina perché quando ci sono degli articoli che mi piacciono io comunque ve ne parlo perché è giusto sulla gazzetta dello sport andatela a leggere perché è veramente paragonano a chi mi al marrakesh express treno che arriva sempre a destinazione accostamento molto bello azzeccato quindi adesso non mi ricordo chi chi è l'autore di questo articolo ma i miei complimenti veramente molto 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 bello poi fine video un po di news allora diciamo che il gong del mercato è suonato e nonostante questo l'inter perfezione comunque tre operazioni tre operazioni fatte in passato perché legate ai bonus bonus che sono stati raggiunti già nella prima domenica di febbraio quindi politano politano ci frutterà un bel più 19k ok perché perché ha raggiunto comunque i bonus stabiliti e quindi in napoli è obbligato a riscattarlo per 19 milioni poi ce ne sono due di operazioni che sono sempre andate in porto in questo weekend di febbraio sempre per il solito discorso che vi ho fatto adesso e sto parlando di darmian quindi meno due milioni e mezzo che verranno dati al parma quindi verrà riscattato e più due milioni e mezzo di candreva che verrà appunto pagato dalla samp quindi diciamo che ecco queste sono sono un attimino le notizie poi tanti di voi mi chiedono della società ieri abbiamo fatto una live tutti insieme nel senso io insieme a tutti voi vi ringrazio perché la è venuta molto bene molto bella e siete veramente magnifici con me vi ringrazio ogni giorno sempre di più e però ho spiegato il mio punto di vista si parla troppo di cosa se ne dicono tante però comunque diciamo che adesso noi dobbiamo pensare alla squadra dobbiamo pensare alla partita di domani poi ne parleremo appunto domani della partita perché partita assolutamente da da giocare come sappiamo da giocare come abbiamo giocato negli ultimi periodi e poi vada come vada ma se noi facciamo l'inter e noi facciamo l'inter soprattutto di questi di questi ultimi mesi poi qualsiasi risultato arriva lo accetteremo proprio a cuor sereno perché siamo veramente forti e adesso mi sono soffermato oggi nel parlarvi di a chi mi è ispirato da questo articolo ma ci sarebbe da parlare del mister ci sarebbe da parlare di barellino che è stato definito il uno dei centrocampisti più forti d'europa e il centrocampista più forte d'italia lasciamo stare le polemiche con il nostro ex il solito bergomi è il beppe bergomi che che dice sì ok vi siete dimenticati di che si per l'amor di dio che si sta facendo un'ottima stagione però deve sempre puntualizzare no deve sempre togliere qualcosina cavolo bergomi una volta che parlano bene di un giocatore dell'inter poi parla una volta dopo di che si per il quale io al massimo rispetto perché che si veramente sta facendo un campionato esemplare perché è lì da dire è lì da vedere io però mi tengo i nostri io mi tengo i nostri tutta la vita fiero e orgoglioso dei nostri ragazzi ok allora io vi saluto vi do appuntamento questa sera 9 e 45 21 e 45 non ho cugini se non vi siete ancora iscritti che cosa aspettate è gratis andate iscrivetevi e la battaglia sta per iniziare quindi trovate già il già la live pianificata potete mettervi il pro memoria e già che ci siete mettete il pollicione poi però spiegatemi a che cosa serve ciao ragazzi di milano il simbolo regale il viscione dell'internazionale ci vediamo questa sera un bacione grosso a tutti ale 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 l'interale